È stato l'anno d'oro dello sport italiano, azzurri tra le parole più usate, uno dei protagonisti, Gianmarco Tamberi, campione olimpico di Tokyo, per i telespettatori del TG1, simbolicamente, naturalmente, salta l'asticella del 2021. Un augurio di speranza nel nuovo anno. Marco Franzelli. Ciao Italia, come potete vedere anche nell'ultimo dell'anno, allenamento. Un salto, uno soltanto, l'ultimo del 2021. Gianmarco Tamberi, detto Jimbo, alle Mauritius, oceano indiano. La vita gli ha insegnato che per raggiungere la vetta ai 2,37 metri l'Olimpiade... Andiamo Gianmarco, siamo sulla luna! ...non bisogna farsi spaventare dalla salita. Perché si parte sempre dalle basi, dalle misure più basse, per poi salire centimetro dopo centimetro verso altezza e mare a tutti. Per questo vi mando un abbraccio con un augurio speciale. Spero che il vostro 2022 possa essere ciò che è stato per me l'anno che si è appena concluso. Era finito nell'abisso il gambaletto di gesso sulla pista di Tokyo. Ricordo della rottura del tendine d'Achille. Sembrava finita, carriera a rischio. La medaglia d'oro è arrivata, scegliendo di non fare lo spareggio, con l'amico Mutaz Barshim. Quell'abbraccio che resterà nella storia. Insieme sono usciti dalla crisi. Vi auguro davvero di realizzare tutti i vostri sogni, così da potervi guardare ogni mattina allo specchio, orgogliosi di non aver mai mollato il momento di difficoltà. Buon 2022 a tutti, di cuore! Buon 2022 a tutti, di cuore!